Se vuoi dormire qui, ci devi pagare, hai capito? Ehi, lascialo stare! Non hai ancora capito come hai fatto? Posso spiegarti ogni cosa. Nel corso della storia vi sono stati guerrieri, chiamati cavalieri. Io credo che Atena possa salvare il mondo. Ma quando Atena è in pericolo, ecco che sorgono anche i cavalieri. Questo è il tuo destino. Urbine di Pegasus! Dobbiamo attaccare, insieme! Avrei dovuto ucciderti prima, Pegasus. Se moriamo, moriremo insieme. Atena è in pericolo.